Ciao a tutti da salida e bentornati su Spyro Riptos Rage In questo episodio affrontiamo il livello delle Torri Aquaria Un livello sottomarino che è veramente complicato Complicato perché? Perché non si vedono assolutamente una ciolla di niente Ma non aggiungo altro, buona visione Oh caro Spyruccio, eccoci qua, dove siamo? A Torri Aquaria ed è l'unica cosa che ci manca al momento, credo, sì sicuramente Ok, spero quando hai finito di fare il tuo tipico show, gentilmente Iniziamo a fare qualcosa, ce n'hai voglia, Sparks anche tu, eh Che vedo che siete tutte e due lì a non fare un cacchio di niente come al solito È bella la vita da drago, eh Ok, muoviamoci, andiamo Oh, eccoci qua, ciao, buongiorno Un cavalluccio No, eh Chi è? Un cavalluccio marino che ha sete? Va bene A posto stiamo Eh, che bastardi Eh, poverino Ok, allora, Spyro, siamo qua Eh, qua, guarda un po' Già qua dietro erano nascosti, eh, ma dato che io le so le cose Quello lì mi tira Ho visto, ho visto Guarda, che bastardo Vediamo un po' quello che non so che roba sia Ehm, andiamo adesso qua, va Ciao, Ripple Eh, me ne sono accorto Bisogna che qualcuno attivi gli interruttori che stanno sorvegliando Ok, e che qualcuno sarei io Ok, allora, vedo che lassù c'è un counter Qualcuno E sento anche dei chic chic, eh, ma vabbè Ehm Ah, questi saranno questi gli interruttori Non lo so Sì, sono questi i miei interruttori Perfetto Telecamera Sai che sei un incubo, vero? Sì che lo sai Ehm, cerchiamo di collaborare Guarda qua, ce li lasciamo questi, Spyro Non lo so io, eh Ok, allora, andiamo di qua Guardati in giro Che poi ci lasciamo cose Ok, eh Proviamo ad andare un attimo qua Qua ci vogliono 14 cose Eh, figurati in 93 Ciao Ciao, eh, proprio Telecamera meno Ok, sparò Com'è che si salì? Così? Sì, così a quanto pare Telecamera, mamma mia Che incubo che sei Eh, vabbè Eh, sparò così Guarda No, eh Eh, sarà un livello Vabbè, stemmie totali questo Ok L'abbiamo presi tutti? Credo di sì Cos'è che cincischia? Che fa casino, insomma Ah, eh Figurati Cosa fai, cretino? Oh, anche te Ah, c'è un altro Eh, figurati Che pieno Guarda qua Che bordel Ah, ma ci sono i gamberetti Sì, vabbè, li facciamo fuori Eh, attestate Vedo che funziona Eh, telecamera meno Grazie Una po' lì Qua c'era Spero Eh, poi lo cerchiamo Ah, minchia Che incubo che è Cioè, non so Se sono peggio I livelli in volo Che detesto O questi Cosa fai, cretino? Ok Ce l'abbiamo fatta? Sì A quanto pare sì Andiamo di qua Che c'è roba? Ci sono cose lì? Ok Raccattato tutto Ok, direi che a questo punto Potremmo quasi quasi andare avanti Ce lo facciamo andargli sopra? Sì, ce l'abbiamo fatta Ecco Ce l'avevamo fatta, Spyro Ma suppongo che qua tanto Poi dovranno venirci di nuovo Eh, quanti porchi Che dovrò tirare Cosa fai, deficiente? Allora, queste Prendiamoci le un po' tipo Subito adesso Che è facile così All'altro modo Sarà un casino Una vita E questo ce lo lasciamo Spyro, no, eh Allora, facciamo Facciamo una cosa Qua ci sono gli squali meccanici Saranno porchi Assolutamente sì Qua c'è una pozza da D'acqua Che è dalla parte Dove siamo arrivati Perfetto Eh, però Ho capito Allaghiamo la zona, va? Ok E acqua fu E porchi anche Mi domando Perché ci fanno allagare la zona? Vai un po' su Guardiamoci un po' Attorno Tipo Ok Allora Spero Vanno un po' là Grazie, eh Allora Dovremmo forse Forse Cercare di Arrivare Lassopra Ok Comunque A salire sopra Ce l'abbiamo fatto ugualmente Pecora Basta Ok Allora Prendiamo questa Guarda dove cacchio L'hanno infilata Qui invece Cosa c'è? Ok Andiamo giù E qui c'è altra roba da raccattare Ehm Bastardo Bastardo Maledetto Dove siamo Ah guarda qua il maledetto Ciao schifo Sei più forte di quanto sembra Vero eh Ma non riuscirai a superare gli squali metallici che ci sono più avanti Sì me ne sono accorto Potrei prestarti il mio sottomarino Per una modica cifra Naturalmente Pidocchio Quanto vuoi 100 gemme Maledetto Eh Questo sottomarino è a prova di squalo al 100% Eh Immagino Ok Eh Eh sì ma le gemmine ce le lasciamo tutte Gio Gioco Ok Tutte le gemmette ce le lasciamo Benissimo Invece ce le farà Ce le fa prendere Do Gioco Che cazzo fai Io non volevo scendere Ho capito cosa serve il potenziamento Ho capito cosa serve il potenziamento No 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 E mo Facciamo così Eh Che problematica Ok Cioè Che problema c'era Il problema c'era Sparks Sì lo so Poi vedo di Di farti sopravvivere in un modo o nell'altro Ok E altra acqua che si aggiunge Che cola Sparo Grazie Che voglio vedere Ok ce la facciamo Sì ce l'abbiamo fatta Tutta sta roba Ah Ho capito Qua non possiamo Ok Sparo Vami su Su Ho detto Vami su Andare di là Eh crepa tu Spacaballe Ok Abbiamo un bel po' di Roba La pecora palombare è fantastica Sappiatelo Ok Andiamo di qua E prendiamo tutto Tutto Capo Eh Oh grazie Sì Ok Ci saranno a tirare porchi Ancora comunque Eh sì Assolutamente Sì Spero così Grazie Ce l'abbiamo fatta Sì ce l'abbiamo fatta Abbiamo il power Figurati un po' Se non ha tempo Ok Andiamo di qua E muo andiamo giù Sì muo andiamo giù Spero Ma porca Sì vabbè Ma chi cazzo ci vedeva Ok Rifacciamo il giro Vediamo per se stavolta Ci riusciamo Ma neanche preso cazzo La butto lì Spero Un po' di più Un po' di più Oh Ancora uno Ancora uno Ancora uno Ho detto Guarda Ma guarda Se lo prende Oh Ce l'abbiamo fatta Sì ce l'abbiamo fatta A quanto pare Andiamo di là Ma guardiamoci sempre attorno Ok Torniamo dietro Rifacciamo tutto Ok Attiviamo di nuovo Lo potere E andiamo di nuovo di là Sappiamo che ce ne sono Almeno altri due Ok Cerchiamo di metterci Più doriti possibile Ok Ok spara Ancora Ancora Ma perché devo saltare Su Uffa Vabbè Facciamoci di nuovo il giro Giusto per controllare Ma abbiamo preso già tutto Qua Vabbè Guardiamo al lato positivo Che non ci ha fatto ripagare Il merda Allora Qua ci sono delle torri Che sono numerate Che vorrà di Proviamo a sparare Vediamo un po' Cosa succede Secondo me niente No è successo qualcosa No è successo un cazzo A dire la verità Ok Qua ce ne sono degli altri Scuoli Ce li siamo fumati Assolutamente sì Ok Prendiamoci di nuovo Il super potere E spero No Non devi Non ti devi Incastrare Lì Maremma Bonina Ok Dove sono gli altri Non me lo ricordo Mica più io Di certo Non sono qua Ma saranno qui Assolutamente Sì Scoppiate Quando avete un attimo Grazie Ho detto Grazie Oh Siamo anche lì Ok E anche Queste gemuzze Ce le possiamo recuperare Ce ne mancheranno Ancora Tipo tantissime Assolutamente sì Ok Guarda qua La gemina Dov'era Maledetta Che può Guarda Più di una Ok Le abbiamo prese tutte Siamo sicuri Ma che c'è Una sul cucuzzolo No Oh Siamo usciti Ma c'è anche Tutta una zona Qua E che cà Oh Qua c'è un altro Fenomeno A quanto pare Sì Cosa vuoi Corri Riflippi Ok 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 Ah in prestito Poi Gli ridiamo Vero Sì Ok Ok Raggiungi la cima Delle torri Ecco Forse Ok Andiamo a cercare La numero 2 Chissà dove cazzo Sarà E' quella lì Ok Abbiamo trovato La number 2 Come Com'è Com'è che funziona qua No Spero Guarda su Ok Ce l'abbiamo fatta Di culissimo Ma ce l'abbiamo fatta Ok Si apre la Numero 3 Ok Intanto qua Facciamo scorta Di tutto Ok Guarda là Guarda là Che ce n'è ancora Guarda qua Che ce n'è Bastardo Ok Pecora Mi sta sulle palle Grazie Cerchiamo Perché qua Ce n'è ancora Ok Saliamo di quota Ci prendiamo questi Dai Perfetto Pairo Grazie Guardiamo Un po' Guarda lì Ok E le gemine Le abbiamo prese Tutte Perfetto Pairo Dobbiamo scendere Di nuovo giù Lo sai vero Sì che lo sai Chi è sto qua Hunter Che cazzo Ci fai lì Vabbè Non lo vogliamo sapere Torno anche da te dopo Ah Eccola qua La 3 Ok Pairo Grazie Ah Qua c'è il gamberetto Vabbè No problema Ok E si apre la numero 4 Andiamo a cercarla Number 4 Dove cazzo sta Non lo so Sarà sempre per qua Eccola lì Ce l'avevo davanti al becco Non la vedevo Ah Fico 1 2 Ah Ho capito 1 2 No spero Ok Adesso aspettiamo Che si disattivi E andiamo su a cannoncio Ok E l'altro L'abbiamo liberato Oh Si è aperta la numero 5 Mo' Vole a cercare Ok Andiamo un attimo di qua Che anche qui c'erano Deletto Eh guardalo un po' Che numero 6 Che numero 6 tu La numero 5 Non avevo dubbi Ah Eppure Ok Com'è qua Il pattern Ah Si disattiva uno Si disattiva l'altro Ok Andiamo su E liberiamo l'altro Ok E si è aperta l'ultima La numero 6 Dove sono Gli spacaballe Oh Dobbiamo andare a cercare l'ultima Che chissà dove cazzo è No ma Una mezza idea Ce l'ho io Eh Eccola qua La numero 6 L'abbiamo trovata Ok Ah Mi stavo già cagando addosso Ok Vediamo il pattern Di questa Ah sale Sono cagato addosso Eh spero Io lo dico Allora Quando arriva il primo anello Si attiva il secondo Ok Andiamo su pian piano Au Ok vai su Abbiamo capito che Abbiamo fatto al micchiata Ce l'hai fatta Eh si Possiamo nuotare in pace In pesce Ho saputo che fai collezione di sferi Si si Tieni Prendi questa Oh Ottimo E abbiamo una sferonza Allora Ok Perfetto Meno male che siamo qua Dove lo sfighi Lo sfigato Eccolo là Ti invece cosa che vuoi Hunter Crettino Oh ce l'abbiamo fatta Si Eh chissà come mai Eh guarda non vedevo l'ora Ok vediamo un po' Oh Ok va bene Allora dovrebbe essere una missione semplice Si Ah devo seguire quello Ok E' che mi perderò tantissimo Ma guarda te Dove sei Bastardo Un attimo E che è Grazie Otto Me ne manca uno Dove sei Ma va Affanchiurlo Sì Certo Ok Buona fortuna questa volta Eh Speriamo bene Sì lo so È livello handicapato Io non ci riesco Ok Secondo l'abbiamo preso Terzo l'abbiamo preso Quarto l'abbiamo preso Ora scende Scende E scende Quanti ne abbiamo perso Sei Sette Otto E nove Livello cretino Completato alla seconda Eh beve di te Una sfera in una pinna Non ti dà fastidio Creti idiota Ok ce l'abbiamo fatta Anche l'altra sferetta L'abbiamo acchiappata La manta è domanda Vorrei allenarla per le gare Ah Condurla su un circuito più difficile Ma ne farei anche a meno Eh ma va bene Buona fortuna Livello di difficoltà cinque eh Tre No Figurati Ok Dai Non mi scappare tu eh È il casino di sta cosa Che non vedo Quell'esserino di merda lì Dov'è Eh ciao No sono incapace io È diverso Ok Buona fortuna Ok dai Livello un po' più di cretino Ce la possiamo fare L'abbiamo già perso L'abbiamo già perso No vabbè ma forse Forse Ce la facciamo No non ce la faremo tipo mai Eh sì Ok riproviamo per l'ennesima volta Dai Inseguiamo sto cavalluccio Puoi andare un po' più piano Gentilmente O magari noi rallentare La butto lì Ah eccolo lì Guardalo Ma vai a cagare sulla luna Chi cazzo ti vedeva qua sotto Ok Dov'è Su Oh Uh Eh ci siamo persi Non tanto Sì no ci siamo persi tantissimo No ce l'abbiamo fatta Incredibile Che tanto Mi farebbe comodo Un socio come te Grazie Tieni Ti do anche la sfera Che ho trovato nell'altra mina Ma che c'avevi Una Una Un allevamento di mucillacine Lì dentro Ok Abbiamo recuperato anche le sfere Vuoi dire Ok Raccolto tutte le sfere Livello completato al 100% Ottimo No Hunter Basta a te queste cose Torniamo giù Cambiamo Torniamo dove eravamo Ah eccolo qua Vai a casa Spyro veloce Oh Eccolo Sei un bastardo però eh Ecco Adesso non ridi più Ecco Adesso non ridi più Ok Ed eccoci tornati a Foresta D'estate Perfetto Tori Aquaria L'abbiamo completata E allora vuol dire Che mi sono perso qualcosa In qualche altro livello Eh Che gioia Che gioia Devo rivederli tutti Sono contentissimo Guarda Dov'è Pecora di merda Oh Spero Mettiamoci il cuore in pace Dobbiamo rivederli tutti E trovare dove cazzo era Che avevamo perso l'arrampicata Felice Eh Immagino Ok per ora fermiamoci qui Abbiamo completato Il nostro livello Al 100% E a questo punto Mi sorge un dubbio Ci siamo dimenticati Sicuramente Di trovare L'abilità Della scalata In qualche altro livello Ergo Me li dovrò rifare Tutti quanti Per trovarla Ebbene si Sono felicissimo Comunque Nel prossimo episodio Andremo avanti Vedremo di completare Tutti gli altri livelli E ottenere qualcosa E comunque Se il video vi è piaciuto Mettete like Condividete Iscrivetevi al canale Faita quel caso che volete Tanto ormai lo sapete E noi se vorrete Ci vedremo in un prossimo episodio Ciao Ciao